Siete già su... sotto a camera Livio dove sei che non ti sento? Eccoci agli ultimi tornanti Prima non c'è nessuno in radio Chiamata professionale Sì Gli ultimi tornanti prima di scollinare sui prati del bell'oro Finalmente il paesaggio si apre un po' Giornata umida Ho visto Siamo arrivati Facciamo qua se ho con l'angelo Ed ecco la famosa supporto sedia Un brevetto di Leonardo che si siede E mentre si gode il palido sole può sostenere la sua canna da pesca da 10 metri Un sorriso per la stampa 12,5 prego 12,5 Montare che si è portato il seggiolino per il sota pensionato E adesso vedremo il famoso Livio finalmente a torso nudo Per tutte le sota girls Ecco Stripis Montaggio della EH Antenna versione da campo Picchetto Pezzetto di legno EH Antenna per i 40 metri E il tubo del castorama In due pezzi Così Si può portare l'antenna Almeno a 2 metri di altezza Dopo averla fissata Hop Sono sempre gli previsti Della diretta Allora Tac Tau RG 5,8 Perché tanto di 7 mega Delle perdite Se ne preghiamo Facciamo un primo piano della taratura Qui vedete un manellino Che si sposta facilmente E quindi si tara perfettamente E poi Infiliamo il tutto Bene Fine della lezione numero 1 Se non casca Tac Di ritardo Grazie a tutti bravo uniforme qrp roger fantastico ne accantena e due vattene italy kilo 2 november bravo uniforme roger italy kilo 2 november bravo uniforme november bravo uniforme roger passiamo al settore avio modellistico frequenza 35 mega in attesa che venga un po di sole e un po di vento e ecco leonardo in qrp italy solo 2 italy solo 2 delta queen alpha qrp che banda eri leo? 15 metri 15 metri con che potenza? un watt 15 metri e canna da pesca da 12 metri roger 5915 good luck 300 miliwatt diciamo che il tempo non è stato dei migliori però l'esperienza è interessante bravo uniforme qrp bravo uniforme 2 question mark many text italy kilo 2 november bravo uniform italy kilo 2 november bravo uniforme qrp ok italy for you 5915 5915 roger oscar kilo 2 bravo alpha uniforme is that correct? italy 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 kilo 2 november bravo uniforme italy kilo 2 november bravo uniforme qrp ok italy kilo 2 november bravo uniforme 5... ok 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 Grazie a tutti